A voi tutti ben ritrovati, amici di Retta 7, tempo bello, avremo un bel martedì. Il bel tempo ce lo porteremo sino alla fine del mese, poi attenzione tra il 31 sera e dal primo di aprile, pesce d'aprile ma probabilmente non sarà un pesce d'aprile, avremo un nuovo guasto. Intanto godiamoci questa giornata, sarà un bel martedì con cielo sereno su tutto il territorio, su tutto il nord ovest, quindi sia sulla Val d'Aosta che sul Piemonte, anche sulla Liguria e sulla Lombardia. Tra il tardo pomeriggio e la sera però delle nuvole si addosseranno da nord all'arco alpino, su zone più settentrionali, comunque nessun disturbo significativo. Vediamo le temperature, beh si sono abbassate, ce ne siamo accorti, infatti dopo il tramonto, quindi di notte al primo mattino, temperature piuttosto frizzantine, poco al di sopra dello zero, però le temperature massime torneranno ad aumentare, aumenteranno anche nei prossimi giorni, già ritroveremo valori attorno ai 17-19 gradi centigradi, quindi ci avviamo verso una nuova fase breve, sino alla fine del mese, ma una nuova fase primaverile, almeno durante le ore centrali della giornata. È tutto, buon proseguimento, arrivederci.